Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi è la puntata del giovedì, quella in cui parliamo dei souvenir digitali e sono felicissimo di potervi dare un souvenir digitale che mi ha letteralmente sconvolto. Ieri sera mia moglie doveva lavorare, dopo cena, quindi messa a letto le bimbe, si è messa a lavorare tranquilla alla scrivania e io ho detto, oh, mi guardo una bella fiction su Netflix, ho aperto Netflix e lì mi veniva suggerita una serie. Una serie che è l'oggetto del nostro souvenir digitale e insieme a questa vi darò anche un libro. Perché dopo aver visto due episodi di questa serie, in particolare il secondo episodio, mi ha letteralmente sconvolto. Non riuscivo più a dormire dopo perché l'ho trovato illuminante su numerosi aspetti interessanti per chi utilizza i social media per comunicare, per chi utilizza il digital per fruire contenuti, insomma, ragazzi, per tutti noi. Quindi, visto che il souvenir digitale è un contenuto, un'app, un servizio, un software che cambia in meglio la nostra vita digitale, credo che sia nostro dovere, oltre che piacere, acquisire consapevolezza. E questo souvenir ci può dare tanta consapevolezza sul mondo in cui viviamo. Prima di entrare nel vivo della puntata, però, devo ringraziare con tutto il mio cuoricino i finanziatori di strategia digitale, coloro che hanno deciso, nonostante strategia digitale sia completamente gratuito, non sia a pagamento, hanno deciso di diventare produttori per passare dall'altra parte, per dire non più io ascolto strategia digitale, ma io faccio strategia digitale, io contribuisco alla sua creazione giorno dopo giorno e alla qualità di questi contenuti che speriamo realmente possano cambiare in meglio la vostra vita o il vostro lavoro nel mondo digitale. Sto parlando di Roberto Andreoni, di Federico Izzi, di Paolo Gollo, di Massimiliano Berto, Rosario Rizzo, Mary Pantone, Stefano 2.0, Erika Valiengo, Mariano Lampis, Gianluca Gorlani, Mauro Arizzo, Marco Bazzo, Daniele Risi, Webkarma, Fabio Di Maggio e Marco Paolini. Questi sono i finanziatori che sono andati semplicemente su youmediaweb.com slash finanzia e hanno scelto di finanziare con un euro, 5, anzi un dollaro, 5 dollari, 10 dollari, 50, 30, 100, non è importante quanto, l'importante è partecipare a questo progetto che io sento profondamente mio, ma anche profondamente vostro. Bando alle ciance ragazzi, è arrivato il momento di scoprire il nostro souvenir digitale e scoprire come una serie tv può darci consapevolezza sul nostro modo di vivere il digital. Il souvenir digitale E allora ragazzi, questo souvenir digitale, levo la copertura, cosa c'è sotto? Una serie che si chiama Black Mirror. Su Netflix ci sono ben tre stagioni. La prima stagione è formata da quattro episodi, quattro episodi ieri sera ho iniziato a guardarla. Ho visto il primo episodio molto molto interessante sul rapporto tra la vita umana e la dignità umana, ma quello che mi ha realmente sconvolto è stato il secondo episodio. In inglese, io utilizzo Netflix in inglese, l'episodio si chiama 15 Million Marits, tradotto in italiano, non so bene da quale pazzo assassino, 15 milioni di celebrità. Come al solito, quando si trasforma un titolo, si stravolge completamente il senso. Cosa sono questi Marits? Questi 15 Million Marits, 15 milioni di Marits, sono 15 milioni della valuta utilizzata in un futuro distopico. Abbiamo una società composta sostanzialmente da tre categorie, tre fasce sociali. La più bassa fascia sociale è quella delle persone, diciamo, inattive, fanullone, obese, che vestono in giallo, con delle tute ridicole in giallo, e sono oggetto degli attacchi verbali, della derisione, addirittura sono il nemico da uccidere nei videogames da parte della seconda fascia della popolazione. La seconda fascia della popolazione, quella costituita dalla maggior parte delle persone, sono persone che vivono in delle celle cosparse di schermi. Su questi schermi, tutto il giorno, vanno in onda degli show. Degli show di vario tipo, dallo show comico, fino allo show pornografico, passando per un talent show, oppure dei videogame, o delle forme di realtà aumentata, dove l'avatar corrispondente a ogni cittadino si muove in una realtà virtuale. È molto importante questo aspetto degli avatar, perché la seconda fascia della popolazione vive in un contesto totalmente, diciamo, asettico, spersonalizzato. Si vestono tutti con delle tute grigie, uno uguale all'altra, e invece investono i loro merits, la loro valuta, nella personalizzazione del loro avatar. Per questo è molto importante il concetto dell'avatar. Quindi la loro vita virtuale è una vita ricca, colorata, personalizzata. La loro vita reale è estremamente povera. E questa povertà, questa assenza di caratteristiche personali, si riflette anche nelle relazioni. Queste persone non entrano in relazione l'una con l'altra, non parlano tra di loro. L'unica cosa che fanno è intrattenersi mentre svolgono l'unica attività possibile, che è quella di pedalare su delle ciclette. Queste ciclette, non si capisce in maniera esplicita, ma si intuisce, alimentano l'energia, danno energia a una gigantesca macchina dell'intrattenimento. Cioè la corrente elettrica per far funzionare tutto e per trasmettere questi show sugli schermi onnipresenti è provveduta e creata attraverso queste ciclette sulle quali le persone pedalano e attraverso questa pedalata guadagnano i loro merits, i loro crediti, questa moneta virtuale. Quindi guadagnano pedalando e spendono o acquistando cibo, o acquistando prodotti, o acquistando soprattutto prodotti virtuali. L'unici prodotti acquistabili al di là del cibo è il dentifricio. Mentre i prodotti virtuali sono tantissimi, possono comprare i vestiti per il loro avatar, oppure pagare una tassa, una penalità, per schippare la pubblicità. Quindi quando, durante la loro visione, mentre vedono uno show, vogliono cambiare, levare la pubblicità di mezzo, devono pagare. Loro pagano per saltare la pubblicità. E pagano anche, anzi, sono caldamente invitati dal sistema. Se chiudono gli occhi, si attiva un allarme. Attenzione, attenzione, riaprire gli occhi. Devono, sono costretti a intrattenersi, sono costretti a guardare questi show. La terza fascia della popolazione sono coloro che interpretano gli show, coloro che stanno dall'altra parte dello schermo. E i cittadini della seconda fascia hanno la possibilità di fare il salto solamente se, dopo aver pedalato, 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 sono riusciti a accumulare 15 milioni di merits e sono riusciti ad acquistare il biglietto a questo talent show durante il quale vengono messi alla prova e se sono bravi a fare qualcosa in particolare diventano l'autore o l'interprete in uno di questi show che vengono visti dalla maggior parte della popolazione. Quindi abbiamo una fascia, diciamo, povera, bassa, questi gialli, la fascia mediana, quella molto popolata, diciamo, la maggior parte della popolazione e la fascia top che sono questi intrattenitori. Non vi sto spoiloreando niente, eh ragazzi, non cominciate a dire ma come? Ci dà il souvenir digitale e poi ci racconta tutto. No, questo è quello che si intuisce, è il contesto. Quello che ti sconvolge è naturalmente la storia che si ambienta in questo contesto. Ma vi voglio dire tre cose che mi hanno impressionato di questo episodio. Oltretutto vi invito a guardarlo, a guardare la serie, ma in particolare a guardare questo episodio, il secondo episodio della prima serie su Netflix, ma penso si trovi anche in streaming sul web se non avete l'abbonamento a Netflix. Vi voglio dire tre motivi per cui credo che guardando questo episodio cambierà completamente il vostro modo di utilizzare i social media e di rapportarvi a questo mondo digitale che ci circonda, per il quale io stesso molte volte ho tanto entusiasmo. Ragazzi, sono io il primo a dire il digital è un'opportunità fantastica per tutti noi per fare business e vivere in maniera diversa dal passato benissimo, ma attenzione perché ci può essere anche un futuro distopico. Possiamo andare, se utilizziamo male il digital, in direzioni molto simili a quelle descritte durante l'episodio. Quali sono questi tre modi in cui la visione di questi episodi influenzerà la nostra vita e il nostro lavoro digitale? il primo motivo è un tema a me molto caro la differenza tra intrattenimento e relazione intrattenimento e relazione. Se avete notato anche io penso a mio padre, i miei genitori, ancora di più i miei nonni, quando mi racconta della sua gioventù, quando mia madre mi mostra le foto di loro da giovani e dei loro amici, mi rendo conto che loro stavano tra di loro in maniera diversa. Oggi stiamo molto di meno tra di noi, spendiamo molto meno tempo in relazioni e spendiamo molto più tempo in intrattenimento. Uè Gaudiano, ma come? Siamo sempre sui social media? Noi nelle relazioni ci spendiamo il tempo? E no, e no, non ci spendiamo il tempo perché quello che viviamo attraverso i social media la maggior parte delle volte non sono relazioni ma è intrattenimento sociale, intrattenimento sociale. La macchina Facebook è tutta concepita per darci intrattenimento sociale, cioè per prendere le storie, le emozioni, i fatti, le date importanti, i contenuti dei nostri amici e impacchettarli come un contenuto di intrattenimento. Ma noi non stiamo entrando in relazione col nostro amico quando vediamo la foto di lui che va a fare le vacanze al mare o il video che ha condiviso. Stiamo fruendo un contenuto. Non siamo insieme al nostro amico realmente e andiamo a vedere un film insieme quindi fruiamo un contenuto insieme ma all'interno di una relazione ne parliamo, ne chiacchieriamo, tutte e due cambiamo allo stesso momento nella relazione e nella fruizione di quel contenuto. No! Noi stiamo fruendo un contenuto che lui ha condiviso magari per farlo vedere a un'altra persona e Facebook capisce da come quella terza persona si comporta che questo contenuto potrebbe essere interessante anche per noi perché la nostra matrice anagrafica, demografica, comportamentale corrisponde a quella del terzo amico e ci mostra nella nostra timeline il contenuto condiviso dal nostro amico. Ok? Quindi Facebook spettacolarizza le vite delle persone che partecipano a questo social network. Qual è invece la modalità della relazione? La modalità della relazione è io vedo su Facebook che sei andato a fare la partita di calcetto alzo il telefono e ti chiamo oh ciao ho visto che sei andato a fare la partita di calcetto raccontami un pochino che stai facendo ah questo questa è la relazione. Allora il mio consiglio è monitorare attentamente provare a discernere a distinguere il tempo che dedichiamo all'intrattenimento e quello che dedichiamo alle relazioni. Non parliamo poi di tutte le altre forme di intrattenimento cioè per esempio ieri sera ho visto Netflix non potevo stare in relazione con mia moglie perché lei stava lavorando e non c'era nessun altro con il quale entrare in relazione ho scelto di intrattenermi ok da che mondo è mondo l'intrattenimento ma è più facile capire che ti stai intrattenendo quando guardi un film quando ascolti un podcast quando guardi un video su YouTube è molto più difficile capire che ti stai intrattenendo in questa finta relazione creata dai social media quindi cominciamo a distinguere e a decidere in maniera consapevole come vogliamo dedicare a cosa vogliamo dedicare il nostro tempo se lo vogliamo dedicare alla relazione e allora in quel caso lascialo stare Facebook alza il telefono esci di casa fatti una passeggiata e parla con le persone guardandola negli occhi o se lo vogliamo dedicare all'intrattenimento allora a quel punto mi guardo uno show in tv mi guardo Netflix o scorro la mia timeline di Facebook quello che sto facendo è sempre entrare in relazione attenzione perché alcuni dicono si va bene ok se io guardo i contenuti in realtà sto entrando in relazione anche su Facebook eh Gaudiano io ho lasciato un commento sulla bacchecca del mio amico sono entrati in relazione mi ha pure risposto eppure osserviamo una cosa quando le persone interagiscono attraverso i social tendono non a mettere in campo il loro io ma in un certo senso il loro super io cioè si comportano in maniera più pompata rispetto alla realtà sono più pronti a insultare sono più pronti a manifestare dei comportamenti che non manifesterebbero nella realtà ho sentito tante persone che l'altro giorno parlavano non mi ricordo con chi mi diceva eh ho cominciato a pubblicare dei video ah ecco un mio amico che è un giornalista stava mi diceva che alcune persone su Twitter lo insultavano allora lui gli ha risposto gli ha detto guarda se stai dicendo realmente queste cose e te ne prende la responsabilità ti devo querellare e a quel punto le persone rispondevano no no scusa no pensavo che scrivendolo su Twitter non fosse scusami tanto non intendevo cioè come se quando si sono rese conto che c'era realmente qualcuno dall'altra parte si sono rese conto che erano uscite dal seminato avevano esagerato avevano avuto un comportamento inaccettabile in un contesto relazionale allora questo ci mostra chiaramente come seppure il commento sia in teoria un'interazione il fatto che è asincrono il fatto che può essere in qualche modo anche spersonalizzato questi comportamenti ci dicono che stiamo costruendo un ulteriore contenuto non a caso se osservate le dirette su Facebook i live vi mostrano quando li vedete dopo il live quindi alla fine del live se rivedete un video live andato in onda la settimana fa oggi vedete anche i commenti scorrere in sincronia cioè vedete il commento di Paolo che al minuto 5.33 ha detto ah molto simpatico lo vedete solo quando il commento è stato fatto solo al minuto 5.33 questo vi dice come nella mentalità di Facebook anche il commento sia parte del contenuto allora attenzione a distinguere intrattenimento e relazione il secondo punto secondo me molto importante è avere un fine il personaggio naturalmente anche nel primo punto c'è un pezzo della storia in cui si mostra chiaramente questa differenza tra intrattenimento e relazione il personaggio che era annoiato dall'intrattenimento nella relazione ritrova la vita ritrova l'entusiasmo e incastro anche il secondo tema avere un fine ritrova un fine ci sono due momenti in cui il personaggio di questo episodio riscopre un fine sono due fini molto diversi tra loro non dico niente appunto per non spoilerarvi nulla ma avere un fine lo aiuta a uscire dall'apatia in cui si trova quello che noto io parlando con tanti start-up per imprenditori professionisti che vogliono avviare o riavviare il proprio business attraverso il digital è che gli manca un fine cioè sono concentrati sulle cose da fare ma non sul motivo per cui lo fanno anche quando insegno le tecniche di creazione del personal brand e di comunicazione del personal brand quindi insegno a fare il brand positioning do cinque domande alle quali rispondere chi sei che cosa fai per chi lo fai come lo fai e quella che io dico essere la più importante è perché lo fai più importante perché mi permette di fare storytelling del mio personal brand il perché lo fai il fine è capace di raddrizzare tutta la tua strategia in un certo senso il perché se la strategia è una macchina il perché è la benzina il fine è la benzina che ti spinge e che quindi se è un buon fine è capace di alimentarti e far galoppare la tua strategia non basta capire che cosa devo fare mettere in campo le tattiche sì ok allora posto cinque volte al giorno su facebook in questi orari perché ho letto su un post che sono i migliori per postare poi faccio come mi ha detto Marco Montemagno faccio un video al giorno e poi faccio qua poi faccio là ok ragazzi ma cosa volete raggiungere qual è il fine al quale tendete e questo fine è un fine autoreferenziale questo lo aggiungo io ci tengo molto perché tu in realtà puoi avere un fine anche diciamo commerciale voglio fare i soldi ok io aggiungo un altro layer su questo fine questo fine è un fine autoreferenziale che fa bene solo a te stesso o è un fine che fa bene a te stesso e agli altri perché io credo personalmente per questo aiuto e supporto solo coloro che hanno fini di questo tipo perché credo che si possa avere successo solo con un fine che non sia autoreferenziale io credo che il fine debba portare del bene a se stessi e agli altri non perché siamo San Francesco d'Assisi ma perché viviamo in un contesto in cui nella nostra stessa genetica c'è scritto che siamo un animale relazionale l'uomo non nasce così fluttuante nell'iperuraneo delle idee ma nasce da un altro essere umano che a sua volta è entrato in relazione in una relazione creativa con un moglie o un marito che dirsi voglia cioè l'essere umano è generato da una relazione tra due altri esseri umani e questa cosa ci scrive nella genetica che l'uomo è indirizzato anche a livello sociale verso un bene che è comune anche comune che è individuale e comune il bene individuale vive all'interno del bene comune questo è il mio personalissimo pensiero per carità ma mi ha illuminato in maniera molto particolare questo discorso dell'avere un fine all'interno dell'episodio trova il tuo fine se il tuo business non sta galoppando chiediti ma perché lo sto facendo perché sto facendo tutto questo perché ho creato il sito web perché ho pagato 10.000 euro per metterci un e-commerce perché sto investendo il mio tempo nel fare questo o quell'altra cosa perché mettiti quel perché davanti e risponditi perché quella risposta ti permetterà ogni giorno di focalizzarti e capire se le cose che ti capitano davanti sono buone o non buone al raggiungimento del tuo fine il terzo punto il terzo tema che mi ha colpito è il tema dell'autenticità la autenticità in questo mondo dove nulla è autentico è tutto uno spettacolo è tutto finto anche il cibo fanno dei commenti sul cibo dicendo ma è un cibo finto cresciuto in maniera sintetica in questo mondo dove è tutto finto l'autenticità è una pietra preziosa non sono io a dirlo ma lo dice un personaggio all'interno dell'episodio scoprirete chi è dice è incredibile quello che stai facendo perché sei autentico e che cos'è che colpisce il personaggio il protagonista a un certo punto e gli permette di scoprire il primo dei suoi fini lo colpisce la autenticità il canto ascolta sente una ragazza cantare e questo canto creato dalla voce umana con un timbro molto particolare semplice una ragazza canta mentre sta in bagno lui la sente e riscopre l'autenticità le cose belle e semplici della vita la prima scena che si vede è il personaggio che si sveglia all'interno di una finta fattoria dove sorge un finto sole e un finto gallo canta e lui si sveglia ecco è tutto finto ma basta una piccola un piccolo raggio di luce un piccolo segno di autenticità a sbloccare completamente tutta la situazione nella quale nella quale sta inserito tutto il suo contesto e la cosa più terribile secondo me è proprio che questa autenticità che si trasforma durante il corso dell'episodio alla fine non so se ve lo sto spoilerando va bene ragazzi allora un disclaimer non ascoltate i prossimi 30 secondi se non volete che vi spoileri l'episodio saltate ok chi mi ascolta si prende la responsabilità dello spoiler bene questa autenticità alla fine diventa spettacolo diventa falsità allora perché è importante questo tema dell'autenticità secondo me perché soprattutto se diventiamo creatori di contenuti sui social media creatori di contenuti sul web creatori di contenuti digitali io stesso sono un creatore di contenuti sto qui a parlare con voi attraverso un podcast sto creando un contenuto voi state ascoltando il mio contenuto bene io potrei essere finto essere falso essere artefatto ecco in realtà questo è il contrario dell'autenticità il fatto di essere artefatti potrei essere artefatto funzionerebbe lo stesso ma non lo so una cosa che mi colpisce quando incontro conosco le persone che ascoltano il podcast e che mi dicono Giulio ma tu sei proprio come ti ascoltavo nel podcast e io gli dico ma perché dovrei essere diverso io sono io sempre sia che sia qui davanti a un microfono a parlare sia che vi incontri mentre faccio un workshop o vi incontro per strada sono sempre la stessa persona bene l'autenticità essere se stessi veramente sempre secondo me è un punto essenziale si sente la puzza della finta dell'artefatto quando vediamo le persone che per comunicare per per seguire il loro piano marketing la loro strategia di comunicazione per essere attinenti al loro personal brand alla loro brand image che hanno creato non sono più autentiche quando si perde l'autenticità si perde tutto per questo mi piace per esempio Casey Neistat mi piace guardare i video di Casey Neistat i vlog che pubblicava e tutti i video che continua a pubblicare perché mi dà l'idea di una persona autentica che si sbaglia che ci ripensa che un bel giorno dice ragazzi io il vlog non me la sento più di farlo perché voglio fare altro e quindi è se stesso e quando una cosa non la vuole dire molte volte gli fanno delle domande gli dicono Casey ma cosa si prova a mostrare tutta la propria vita attraverso youtube lui dice io non mostro la mia vita attraverso youtube io racconto delle storie non mostro la mia vita io la mia vita non la faccio vedere a nessuno e questo colpisce dice ma come ogni giorno crei un video della tua giornata e non mostri la tua vita no racconto una storia partendo dagli spunti dai fatti della mia giornata e questo è molto importante allora è importante saper raccontare le storie ma è importante anche se vogliamo esporci in prima persona e secondo me è un'opportunità importante che il digital ci offre mantenere l'autenticità continuare a essere autentici non cambiare non essere finti artefatti altrimenti questa puzza di artefatto presto o tardi si rivolterà contro di noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata vi avevo promesso due souvenir digitali e infatti oltre alla puntata di Black Mirror vi ripeto 15 millions married vi metto il link nelle note dell'episodio vi consiglio di leggere un libro la società dello spettacolo di Guy Debord un autore francese che ha scritto questo libro negli anni 60 mi pare 67-68 si forse 67 e è un libro che a suo tempo mi colpì moltissimo e che trovo molto attinente a questo episodio quindi vedetevi l'episodio e compratevi anche questo libro per Natale non ve lo volete comprare fatevelo regalare così i vostri amici e parenti che non sanno mai cosa regalarvi sapranno come farvi felici la società dello spettacolo vi metto anche qui il link direttamente ad Amazon nelle note dell'episodio ragazzi siamo arrivati alla fine e io voglio ringraziare coloro che hanno lasciato recensioni e leggo una delle recensioni bellissima lasciata da Ale Bergagna Alessandra Di Udine che ha intitolato la sua recensione chiaro preciso e conciso questi podcast sono ottimi sotto più punti di vista chiari semplici anche se non sei un addetto ai lavori concisi e pieni di entusiasmo mai banali la qualità audio è quasi sempre perfetta agli attirata d'orecchie grazie Alessandra è ragionissimo e il montaggio rende tutto molto dinamico un punto di forza che io apprezzo molto è la durata una media di 15 minuti appuntata è l'ideale per coprire i miei tragitti in auto ottimizzando i contenuti a quello che è veramente utile bravi Alessandra Alessandra grazie io mi scuso per la qualità audio che talvolta non è molto buona ma ci tengo anche per il discorso dell'autenticità quando registro live in luoghi fisici durante eventi trasferte cosa del genere a mantenere un po' del casino di fondo per capire che non siamo dentro un black box non siamo chiusi dentro una bolla di sapone ma siamo inseriti nel mondo nella realtà che è molto più incasinata di quello che ci piacerebbe allora ragazzi siamo arrivati alla fine grazie a quelli che hanno lasciato recensioni c'è il link nel noto dell'episodio per vedere come lasciare altre recensioni e grazie a Sara Veltri coautrice del programma al nostro fonico Costanza Mineo e a radiospeaker.it curatore del nostro sound design grazie mille e alla prossima strategia digitale idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano